Abbiamo deciso insomma di unirci insieme ai consigliere Sessioni di Partito Educato e dei miei studenti nel direttivo per affrontare la matematica artici che insomma dicono che questo ha avuto tanto il programma elettorale ma anche il lavoro con l'amministrazione costituzione e riguardo ovviamente il PUC. Il PUC è un strumento fondamentale con l'ambiente economia e fondamentale anche un tratto di amministrazione. Quindi hanno chiaramente avuto una serie di problematiche e in ultima appunto la bocciatura da parte della città metropolitana. Io insomma in qualità di segretaria del partito ma ovviamente insomma anche insieme a Valentino, il PUC, lo stesso Gagne, Raffaele, ma anche a Pasquale il capoducco ma per motivi di insomma impegno lavorativo e però ha delegato insomma il gruppo a disporre la sua idea. Sostanzialmente il Partito Democratico è stato sempre coiso nel portare avanti questo progetto. Chiaramente è necessario fare luce e fare chiarezza su tanti aspetti. Tecnici in azito, quelli che appunto ci hanno contestato e poi soprattutto chiarire effettivamente anche ai cittadini quello che sarà il futuro di questo progetto. Sicuramente insomma ci sta l'impegno da parte dell'aggiunta, da parte dei consiglieri di portarlo avanti, però è ovvio che bisogna essere chiari e raccontare insomma come stanno le cose. Per cui passerebbe la parola a carmi che s'aggiatura dei statuti insomma e poi ovviamente a PUC, a Valdore, a Valdunni e Raffaele, che forse ci possono dare insomma qualche informazione in più sia sul piano tecnici, sia su tutti i vari passaggi che sono stati fatti dell'unità, un'unità, un'unità, uno con la città di prostitana e quant'altro. Grazie.